Ciao a tutti ragazzi e bentornati su DarkFlyChannel con un nuovo video sul canale Oggi come state vedendo queste immagini sono qui per portarvi un nuovo episodio della serie Battle Royale su H1Z1 E sono solo soletto perchè ormai questo episodio mi sta piacendo portarveli da soli ma non è detto che più avanti ve li porti ovviamente con qualcuno Comunque già avevo trovato due veicoli non so se l'avete visto all'alto c'era una jeep e qua c'è la macchina della polizia A me piace la macchina della polizia quindi accendiamola e andiamo subito via Ovviamente ragazzoli prendo la macchina e non prendo nient'altro perchè ovviamente adesso comunque se ci possiamo spostare dove tra cavolo vogliamo Ovviamente vi invito a lasciare un bel pollice in su se volete sostenere questa serie Perchè anche se non vi piace io la porto lo stesso perchè porto sul canale anche ciò che piace a me E inoltre ragazzi nel corso di questa settimana hanno introdotto cioè almeno stanno testando un nuovo anti cheat ovvero il Battle Eye Perchè dato che questo gioco prima o poi diventerà free to play hanno detto se già c'è gente che cheat in un gioco che si deve comprare Figuratevi quando diventerà free to play proprio ci saranno cheat e spuntano da tutte le parti Comunque non ho nessuna intenzione di perdere il mio veicolo Quindi cerchiamo di passare velocemente dentro queste case Torca paletta prendimi la pistola carica Qui prendiamo il casco Il casco Perfetto C'è anche il medikit l'abbiamo preso Qui c'è la revolver No ragazzi allora Io è una partita così non la posso fare O mi date armi decenti Arco Perchè l'arco E' così più inutile al mondo E vabbè Dove possiamo andare ragazzi Io la so Già c'è uno lì Sta venendo da me Con lo straciuffolo Sapete che si cosa fa No vabbè Volevo schiacciarlo però evitiamo Prima andiamo in quel campo rom che c'è qua davanti Vediamo se c'è qualche arma Poi in caso andiamo a schiacciare a quello Perchè ovviamente nel caso non riusciamo a schiacciarlo E dobbiamo scendere Con la pistolina Abbastanza scarsa Non penso che riusciremo a fare molto Comunque già qua abbiamo la prima arma su cosa Ovvero il pompa Ovviamente con la nostra macchina Dato che fa rumore attireremo l'attenzione degli altri Quindi dobbiamo proprio muoverci E ho paura che arrivi qualcuno Perchè quello mi ha visto Che mi sta dando la caccia Ho paura che arrivi qualcuno da quel lato Dunque spero che la mia voce mi accompagni Nel corso di questo episodio Perchè Come avete visto Mi è venuto a mancare E niente Non c'è un tubero Tipo ecco Adesso questa è la cosa più difficile Perchè c'erano le roulotte Che davano le spalle alla macchina E io Se arriva qualcuno Non lo vedo Quindi stiamo con tre occhi Verso la macchina Più verso il loot Quindi scusatemi se Non riuscirò a vedere Tutto quello che c'è qui in giro Uh R15 Ecco Sta arrivando Sta arrivando Primo scontro a fuoco Prefire Prefire Col pompa C'è andato An vedi questo Ovvio che mi lasciava così Felicemente Ah Meno male che avevo la R15 Che l'ho appena trovata Ugo che dà le scarpe fighe Le voglio Buttiamo queste E prendiamo queste Maglietta figa Perfetto Se la buttiamo giù E il pompa Già ce l'ho Niente Allora Per il momento abbiamo trovato la R15 E il pompa E la bella pistola Che non mi serve un tubero Ci stiamo ancora curando Ovviamente come potete vedere Dalle U delle in basso a destra E dire di spostarci Per andare a trovare O la K Oppure altri Altri colpi delle armi Che abbiamo E dire di spostarci Con questa stazione di benzina Perché di solito O non ci spavano nessuno Oppure se proprio qualcuno Non cade lì col paragadute Di solito se ne va immediatamente E ora che lo sto dicendo Di sicuro Saranno tutti lì Ad aspettarmi Dunque dentro la macchina Esatto c'è un bio full Perché di solito Ne batte il roio Quando c'è la macchina Ti mettono anche la benzina In più dentro Perché sanno che uno Le finisce Ok Questo qua Esatto È tipo una stazione di benzina E quindi Che facciamo Facciamo benzina qui Mi sto fermando qui ragazzi Perché So che dentro ci sono le armi La maggior parte delle volte Infatti qui c'è un pompa E ovviamente Cerchiamo di non farci Fregare la macchina Ok comunque qua mi sembra che Non ci sia andato nessuno Il pompa è carica al massimo Sì Ok Perfetto Ah ma c'è anche un veicolo Qui C'è una jeep Qui a sinistra Aspetta che cosa faccia La jeep Gli tolgo i pezzi dentro Così Non possono fare nulla Ragazzi lo faccio perché Meno persone Hanno i veicoli Meglio per me Almeno così dovrebbe essere Dove si trovano i pezzi del camion Non me lo ricordo mai Ecco Veicoli Gli togliamo il boost E lo andiamo a mettere Nella nostra macchina Così non occupo inventari Inutilmente Perché non lo sposta Vabbè Chi se ne frega Allora Qua abbiamo fatto Quello che dobbiamo fare ancora Non è spionato il gas Ma tanto Dato che abbiamo il veicolo Non avremo nessun problema A simulare le cose Qui cosa c'è Ah colpi di pistola Sapete cosa faccio Ci spostiamo qui a destra Ok E andiamo a lutare Queste case che ci sono qua davanti Perché dato che qui c'è un veicolo E nessuno l'ha preso Significa che ancora qui Non c'è andato nessuno E siccome queste case sono succulente Cerchiamo di non farcele sfuggire Comunque qui C'è un medikit E' strano che ci sono Le porte aperte di sta casa Però Boh E soprattutto non hanno preso Manco i medikit nel bagno Se ci è passato qualcuno Era Napo Avrà preso le armi principali Ma what Perché ero No aspettate ragazzi La mia macchina ha fatto Qualche passo da solo Perché non l'ho lasciata qua No Io non l'ho lasciata L'ho lasciata un pochino prima Ho andato avanti da sola Oppure qualcuno l'ha spostata Però penso di no Perché manco l'ho sentita L'accensione Pompa dappertutto Noi prendiamoci i colpi Dietro la porta Di solito ci sono i medikit Però qui non ce n'è Ok siamo rimasti in 62 player 62 Portiamo sempre la macchina avanti con noi Non si sa mai che C'è qualche Lo scappitante di questo villaggio Che Voglia prendere Ah me l'ho dimenticato Anche che con shift C'è il nitro Il boost Della velocità Un altro po' Ma 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 dove stiamo andiamo Cioè Ci sono pompata per tutto Medikit Proprio a volontà Ma Ma una k Chiedo Oppure colpi dell'R15 Dato che non ne ho tanti Ragazzi Dobbiamo fare anche sta cosa Ovvero Togliere il casco Questo E metterci questo militare Perché ci dà più difesa Ehi già Mi dà fastidio Girare in prima persona Comunque nelle case Perché Boh Non lo so Mi dà fastidio Qui cosa c'è l'uscita Ah no c'è un'altra stanza Zani Pistole Niente Quanti colpi abbiamo nell'R15 30 Non siamo pronti Per uno scontro Sulla distanza A meno che non becchiamo un hub E si viene contro Abbraccia aperte Ah il gas è sponato Cavolo Non me ne ero accorto Continuiamo questa casa E poi ci dobbiamo Andare via E volatilizzarci Non c'è niente Di sicuro poi rivedendo il video Troverò mille armi Però Così a prima vista Non mi sembra di aver visto nulla Di chi Comunque allora Noi ci dobbiamo spostare Super giù qui Quindi quadrante G4 E noi siamo al G9 Siamo al G9 Quindi What the fuck Siamo qua sotto Siamo lontanissimi E quindi devo andare Verso nord Oh cavolo Oh cavolo Questo è est Nord è di qua Questa strada verso est Dove straciuffo Lo porta Forse Io dovrei andare Da questo Lato C'è verso sinistra Ah poi facciamoci Questa strada Tanto abbiamo un pochino Di tempo Poi ci spostiamo Verso nord Tanto di solito ragazzi Il gas Non arriva subito Comunque questa strada Zig zag È quella che porta Cranberry Quindi noi Se andiamo sempre dritto E poi prendiamo Questa strada dritta Dovremmo arrivare Nella zona sicura Comunque il gas Dovrebbe arrivare Da qua A destra Noi siamo al quadrante 6 Ok Stiamo per arrivare Però dopo ancora Dobbiamo farci un bel po' di strada Ecco Qua è la zona Dove si divide Noi prendiamo Questo lato di qua Così non passiamo Da dentro il villaggio E questa strada Ci dovrebbe portare A Takito Pakuito Questa è la città Che c'è là a nord Però aspettate Io in effetti Se vediamo Una città qua a sinistra Dove passare di dietro Così mi vado A posizionare Sotto i laghi Che è quello Il punto che mi sono Prefissato nella mente Dove mi voglio mettere a camperare E comunque siccome Non abbiamo neanche Tanta benzina Un attimo qua Che mi sembra un posto tranquillo Ecco Mi sembra un posto tranquillo E c'è la macchina La polizia Che mi sta inseguendo Cavolo Ho soltanto 20 di fuel No 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 Non va bene come cosa È proprio dietro di me Ci volevano le sirene Che quello le accendeva Un attimo Devo trovare una punetta Tipo qua Mi devo nascondere Ok Ora passa L'ho trollato Ora ci buttiamo Qua destra nel bosco E così Il tempo che lui gira Non ci dovrebbe vedere Però dobbiamo spingere La nostra macchina A massimo Dai 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 No È l'albero Ci ha visto Com'è possibile Oh questo c'è il wallack È sceso Oh porca paletta No No Non puoi uccidermi così Signor Boyad Aveva 73 di vita Bah Non mi è piaciuta Come è morto Assolutamente ragazzi Perché Perché a me Era pure vestito Abbastanza bene questo Peccato Vabbò ragazzi Se vi è piaciuto Questo video Dove abbiamo più camminato In macchina Che altro E tutto Ovviamente È la quarta partita Che faccio E non riesco a vincere uno Perché muoio così al caso Se mi vedete Al 35esimo posto Cioè vi rendete conto 35 Vabbò La prossima partita ragazzi Ve l'andrò A portare Con qualcun altro Perché Di sicuro Da solo Non riuscirò più A andare avanti Perché sta diventando Una cosa impossibile Questo gioco E niente Vi do la serie Tanti like e commento Ci becchiamo alle 17 con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi